C'è la famiglia Luca al centro dell'indagine del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta, coordinata dalla DDA di Caltanissetta, che ha portato il GIP ad emettere sette ordinanze cautelari, di cui tra in carcere quattro relative al divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa. Sotto sequestro preventivo beni e imprese per 63 milioni di euro nei confronti di imprenditori gelesi attivi nei settori della vendita di autovetture di lusso ed immobiliare. L'indagine è partita nel 2014 a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia riguarda la famiglia Luca. Gli accertamenti hanno dimostrato che parte dei capitali provenienti dalle attività della famiglia Rinsivillo sarebbero stati investiti in modo organico e stabile nelle aziende della famiglia Luca. I primi contatti tra la famiglia Rinsivillo e Luca risalgono alla fine degli anni 90, all'orquando esponenti del clan mafioso gelese avrebbero iniziato a consegnare agli imprenditori somme provenienti da attività delittuose nell'ordine di un miliardo di vecchie lire da riciclare attraverso le aziende di famiglia. I contatti dei Luca con la criminalità si sarebbero anche estesi ad alcune famiglie mafiose di Catania, quali i Mazzei, Carateddi e i Santa Paola. I complessi accertamenti bancari eseguiti dal Gico di Caltanissetta nei confronti di tutti i componenti della famiglia Luca hanno inoltre dimostrato condotte di riciclaggio. Le indagini hanno poi evidenziato che il riciclaggio di denaro sarebbe stato realizzato anche mediante l'acquisto da parte dell'organizzazione criminale di scontrini vincenti del gioco dell'otto, così da ottenere fonti reddituali, ufficiali e pulite. I Luca, secondo la DDA, avrebbero pertanto diversificato nel tempo le loro attività di riciclaggio ricorrendo a più canali, tra cui, oltre a quelli già citati, anche l'investimento in beni in rifugio, quali opere d'arte, cavalli, polizze vite e titoli di Stato sottoscritti, tra l'altro da prestanome. Nell'ambito delle indagini è emersa altresì la figura di un primo dirigente della Polizia di Stato all'epoca dei fatti in servizio a Gela e successivamente a Caltanissetta e ad Agrigento, indagato nell'ambito del procedimento per corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici in uso alla polizia e rivelazione di segreto d'ufficio. Sono state eseguite misure cautelari in carcere nei confronti dei fratelli Francesco Antonio e Salvatore Luca, nonché del figlio di quest'ultimo Rocco, indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sono stati inoltre sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa per il reato di riciclaggio Francesco Gallo, genero di Salvatore Luca, Concetta Lonigro, moglie di Luca Salvatore e rappresentante legale di diverse aziende riconducibili alla famiglia Emanuele Lonigro e Maria Assunta, figlia di Salvatore e socia in molte aziende della famiglia. Sono state inoltre sequestrate tra Gela e Ragusa sette aziende nonché disponibilità a finanziare i beni immobili riconducibili all'impero economico e finanziario della famiglia Luca per un totale complessivo stimato in 63 milioni di euro. Le aziende sequestrate sono la Lucaut SRL, Carluca SRL, Terranova Immobiliare SRL, Immobiluca SRL, Luca Immobiliare SRL, Luca Costruzione SRL, Mirto SRL. Le aziende sono operative ma saranno sotto amministrazione controllata.